Buongiorno, sono il dottor Pietrantuono, il primario dell'ematologia dell'IRCCS CROB. Nella nostra unità operativa ci occupiamo di curare le malattie oncologiche legate al sangue, quindi leucemie, mielomi, linfomi e soprattutto trapianti di cellule staminali in questo tipo di patologia. Come voi sapete in questo momento difficile e storico abbiamo attraversato un periodo un po' cupo e nero. Noi dal nostro punto di vista abbiamo sempre cercato di non ridurre le attività per stare vicino ai nostri pazienti perché erano pazienti che hanno bisogno di non differire le cure. Visto il nostro impegno adesso noi chiediamo un piccolo impegno a tutti voi quello di aiutarci a proseguire nel nostro lavoro e soprattutto aiutare i pazienti affinché la ricerca possa trovare nuovi farmaci per rendere meno difficile la cura di questi pazienti. Quindi vi chiedo e vi esorto a donare il 5 per mille alla ricerca sanitaria all'IRCCS CROB. Come voi sapete è semplice non costa nulla ma a noi può fare tanto e può fare tantissimo ai nostri pazienti.